Oggi vediamo un nuovo argomento di fisica nel mio corso di La Fisica Facile. In questa lezione parleremo dei vettori. Un vettore è un elemento matematico definito da tre parametri, direzione, intensità e verso. Un vettore, in fisica e matematica, può essere utilizzato per rappresentare una forza, una velocità, delle accelerazioni o anche un momento angolare. Vedremo adesso come. Quindi, in definitiva, i vettori sono tutte quelle grandezze fisiche che necessitano di altre informazioni oltre all'intensità del suo valore per definire la sua informazione fisica. Tutti quei parametri fisici che non si rispecchiano in questa definizione vengono definite grandezze scalari. Ad esempio, delle grandezze scalari possono essere la temperatura, il tempo e la massa. Ovvero, queste tre grandezze, ad esempio, chiarificano la loro informazione semplicemente con l'intensità. Non ha senso dire verso quale direzione abbiamo la massa o la temperatura o il tempo di un dato sistema. Semplicemente basta il loro valore per definire l'informazione che ci serve avere. Andiamo avanti. Possiamo fare diverse operazioni con i vettori. Ad esempio, più o magari, quando giochiamo a biliardo, non ce ne rendiamo conto, ma nella nostra testa stiamo anticipando il comportamento delle palline con dei vettori. È possibile fare delle diverse operazioni con i vettori, che possono essere sia grafiche che analitiche. Cominciamo da quelle grafiche. Immaginiamo di giocare a biliardo e avere una pallina che ha una forza di 5 N e un'altra che ne ha una di 3 N. Ovviamente, non basta conoscere l'intensità della forza per poter identificare questa informazione. Ci serve sapere anche la direzione e il verso. Con la palla bianca devo mandare in buca la numero 5. Però non mi basta sapere l'intensità delle forze che agiscono su queste palline per poter fare questo gioco. Devo anche conoscere il verso e la direzione di queste palline. E qui entrano in gioco i vettori, in cui rappresento con la lunghezza della freccia l'intensità della forza. Ovviamente, quella di 5 N sarà più lunga di quella di 3 N. E poi, con la loro direzione e il loro verso, le altre due informazioni di questo parametro. Ovvero, sono 5 N che vanno in questa direzione, verso la pallina 5. E la pallina 5 ha una forza di 3 N che però si muove in direzione verso il basso. Ovviamente, io dovrò prevedere tramite una rappresentazione grafica quale sarà la forza risultante quando queste due impatteranno. Vediamo. Questo lo posso fare sia con il metodo grafico del parallelogramma, oppure con il metodo del puntacoda. Vediamo il primo. Metto i due vettori, conservando direzione e intensità e verso, che partono dalla stessa sorgente, da qui. Costruisco poi una linea retta parallela alla forza F1, che parte dal punto F2, e una linea retta che parte dal punto F1 parallela alla forza F2. Costruirò così una figura chiusa a quattro lati, ovvero un parallelogramma. Poi unisco con un vettore dall'origine dei due vettori sommanti fino al punto di incontro di queste due rette. E ho costruito così la forza totale. Ovviamente, come vedete, io in questo risultato avrò tutte le informazioni di una forza, ovvero non solamente l'intensità, che sarebbe la lunghezza del vettore, ma anche la direzione e il verso. E se porto questo sistema dentro la mia partita di biliardo, vediamo che questa forza porterà la pallina nella direzione della buca, ma forse non riuscirà a entrarci dentro. Questa è la regola del parallelogramma. E come vedete, si chiama così perché costruiamo una figura chiusa, un parallelogramma con i due vettori. Ora vediamo il sistema invece punta-coda. In quel caso, metto i due vettori, sempre conservando direzione, intensità e verso, l'uno dopo l'altro in sequenza. E come vedete, posso ottenere la stessa risultante semplicemente unendo l'inizio del primo con la fine del secondo, infatti punta-coda. E cosa significa? Significa che, come vedete, la risultante è la stessa, ovvero direzione, intensità e verso, che combaciano con il caso precedente. Sarebbe da dire che questo metodo ha più senso quando i vettori sono più di due, mentre quando sono solamente due è molto più comodo utilizzare il metodo del parallelogramma. Vediamo adesso il metodo del punta-coda. Riproduciamo i nostri vettori stando sempre attenti a conservare le tre informazioni che li caratterizzano, che sono direzione, intensità e verso. E come dice il nome della metodologia, li mettiamo proprio in modo punta-coda. La retta che chiude la figura rappresenta la risultante e, come vedete, è identica a quella venuta precedentemente. Anche in questo caso, il vettore ci indica che la palla andrà in direzione della buca. E questo è il metodo punta-coda, che però è più vantaggioso quando i vettori sono più di due, perché finché sono due, il metodo del parallelogramma è sempre più facile da svolgere, mentre col punta-coda io preferisco fare somme che vanno dai tre a più vettori. Infatti in questo caso, qui ho tre vettori in cui sono stati disposti il metodo punta-coda, quindi uno dopo l'altro, conservando sempre direzione, intensità e verso, e la loro risultante è proprio la retta che unisce l'inizio del primo vettore con la fine dell'ultimo. E ovviamente sarebbe venuto anche se avessimo fatto a due a due questi vettori il metodo del parallelogramma. Qui vediamo che la risultante totale è proprio la retta che chiude la figura. Andiamo avanti. Vediamo invece il metodo analitico. In questo caso ne abbiamo altri due di metodologie, ovvero il metodo trigonometrico, in cui consideriamo il vettore, l'ipotenusa di un triangolo rettangolo e i due cateti, le sue componenti x e y. Vedremo a breve in che modo. Oppure addirittura utilizziamo Pitagora, ovvero consideriamo sempre la risultante, quindi il vettore che stiamo calcolando, come l'ipotenusa di un triangolo rettangolo e le sue componenti come i due cateti. Anche qui ovviamente posso utilizzare il metodo di Pitagora. Allora vediamo questo metodo applicato al nostro vettore. Immaginiamo che l'ipotenusa di questo triangolo sia un vettore da scomporre in due componenti, un componente y e uno x. Questi sono i suoi componenti, a, b e c sono i vertici, alfa, gamma e beta sono gli angoli. Vediamo adesso come trovare i vari componenti. Immaginiamo il lato ab, che sarebbe la componente x di questo vettore. A cosa corrisponde? Secondo il teorema, devo fare ab uguale a cb, ovvero l'ipotenusa, quindi il vettore totale, per il coseno di gamma, che sarebbe l'angolo compreso rispetto alla sua componente ab. Immaginiamo ora invece di avere l'altro angolo, beta, e quindi devo fare cb per il seno di beta, perché è opposto rispetto al lato che stiamo cercando, che è ab. Ora vediamo di applicare la stessa regola all'altro cateto, che sarebbe la componente y del vettore cb. Quindi vediamo, sarebbe ac uguale al cb per il coseno dell'angolo compreso, che in questo caso è b, e per il seno dell'angolo opposto, che sempre in questo caso è gamma. Come vedete, applicando la formula, è possibile conoscere le componenti x, y, se non semplicemente conoscendo la forza risultante, è uno dei due angoli che forma con i vettori. Se invece non conosco gli angoli, ma solamente un cateto e l'ipotenusa, oppure i due cateti, posso utilizzare Pitagora, e conosciamo tutti Pitagora perché lo facciamo alle medie, in cui dice che l'ipotenusa equivale alla radice quadrata della somma quadrata dei due cateti, oppure, conoscendo l'ipotenusa e un cateto, l'altro cateto equivale alla radice quadrata dell'ipotenusa al quadrato meno il cateto conosciuto al quadrato. Ovviamente consideriamo la forza risultante totale, l'ipotenusa e i due cateti, le componenti x, y di questa risultante. Vediamo un po' il metodo trigonometrico. Io ho due forze, f1 ed f2, e conosco gli angoli che queste forze formano con l'orizzontale. L'angolo gamma sarebbe l'angolo che f1 forma con l'orizzontale, l'angolo beta è l'angolo che f2 forma con l'orizzontale. Come faccio a trovare le componenti x, y dei singoli vettori? Semplicemente applicando la trigonometria. Quindi abbiamo che la f1x e la f2x corrisponde alla f1 e la f2 rispettivamente per i cosigni dell'angolo compreso, che nel primo caso è gamma e nel secondo è beta. E trovo praticamente le componenti x delle due forze vettori. Quella rossa è la componente x della f1, quella verde è la componente x della f2. Applichiamo la stessa regola per la componente y. f1x equivale a f1 che moltiplica il seno di gamma, perché in questo caso è l'angolo opposto, ed è questo qua, ed fy2 invece, come vedete, è f2 per il seno di beta, che in questo caso è il suo angolo opposto. Ora abbiamo le due componenti x e y dei due vettori. Come facciamo a trovare la risultante? Semplicemente sommiamo, algebricamente, le componenti x con x e y con y. Andiamo a vedere. Ecco qua. Quindi se io sommo le due x della componente f1 ed f2 e le due y della componente f1 ed f2, ottengo i lati di un parallelogramma, che, guarda caso, andrà poi a essere il parallelogramma la cui diagonale è la risultante delle due forze. Come vedete, alla fine ottengo la risultante con la sua direzione e intensità, oltre che al verso, ovviamente. Quindi questo è un metodo trigonometrico rappresentato graficamente. Se volessi utilizzare Pitagora, sempre solita cosa, semplicemente conosco la somma di catena di x e la somma di catena di y e posso applicare questa formula per trovarmi l'ipotenusa totale. Vediamo com'è possibile visualizzare le forze in alcuni contesti del mondo reale. Immaginiamo una cassa. Una cassa è in equilibrio tra due forze, tra la gravità che tende a mandarla verso il basso, questa, e, praticamente, la reazione del piano, che è quella che è uguale e contraria alla gravità. Se io volessi spingere questa cassa, devo vincere la forza di attrito, qui rappresentata con una freccia uguale e contraria. Fino a quando la mia forza generata non supera quella di attrito, la cassa non si muove. Non appena supero l'inerzia e l'attrito, ecco che la risultante mi fa muovere la cassa. Come vedete, in questo caso, la cassa è vincolata dalla reazione del muro. Se io lascio andare la cassa, la risultante della forza di gravità, che non è più uguale e contraria a quella del piano, farà sì che la cassa si muoverà verso il basso. Eccola qua. Oh là là. Come vedete, è possibile rappresentare in sistemi con le forze che agiscono tramite i vettori. Andiamo a vedere un altro esempio. Qui abbiamo un'applicazione che mostra il moto di un corpo rappresentando le forze che ci agiscono con i suoi vettori. Questo potrebbe essere il moto di un pianeta intorno a una stella, dove c'è la forza di gravità verso la stella che è rappresentata da questo vettore blu, e la forza di fuga dell'oggetto che è perpendicolare a quella gravitazionale che fa spostare il vettore. La risultante di questo sistema fa sì che praticamente l'oggetto si muova in modo circolare. Qui posso rappresentare uno, ad esempio la forza di fuga, l'altro, solo la gravità, oppure entrambi. E vediamo che l'oggetto si muove con moto circolare uniforme intorno a un punto. Questo potrebbe benissimo essere il moto di un pianeta. Ma ci sono anche altri esempi. Ad esempio, posso vedere l'accelerazione, come l'oggetto si muove seguendo le forze di accelerazione e di attrito. Come vedete, tutte le forze sono rappresentate con questi vettori. Ancora, possiamo avere anche il modo armonico semplice. Anche qui, vediamo come le forze si modificano di intensità verso direzione e da queste ne scaturisce il movimento dell'oggetto. Vediamo ancora a telefono incenerazione. Addirittura, posso vederlo libero. Io posso addirittura pilotare l'oggetto con il mio mouse creare una forza io oggi sto agendo ovviamente su quella blu e vedere la risultante che è la verde come risponde alle mie sollecitazioni. Possiamo anche vedere un'altra applicazione. Possiamo, ad esempio, vedere anche il moto di un proiettile con le forze. vediamo io adesso metto tutto proviamo a creare proviamo a lanciare un proiettile vediamo che cosa succede qui metto la velocità la posso selezionare ovviamente metri al secondo e vediamo che succede la mia freccia mi dimostra l'intensità della forza forse era troppo forte ne proviamo una più breve vediamo che succede lanciamo guardate c'è la forza iniziale e la gravità come vedete la forza di gravità agisce su quella iniziale modificandola e la risultante fa fare a quel corpo questo movimento parabolico variando l'angolo della gettata e la velocità iniziale è possibile disegnare diverse traiettorie la forza di gravità sarà sempre la stessa cambierà la forza iniziale e quindi l'interazione tra la forza di gravità che è sempre costante e la forza iniziale che invece varia mi fa disegnare tutti questi percorsi parabolici e vedete che il modo migliore per rappresentare queste forze sono sempre i vettori qui addirittura si vede la costruzione dei componenti x e y che modificano nel tempo la risultante delle forze perché mentre la forza iniziale era sempre quella e quindi si modifica nel tempo quella di accelerazione di gravità è sempre costante e rimane costante anche durante tutto lo svolgimento del lancio vedremo i moti parabolici in una lezione a parte dedicata un altro esempio potrebbero essere gli urti qui vediamo delle palline sempre le palline di biliardo io posso rappresentare ad esempio l'urto tra due palline in questo caso le forze sono opposte proviamo a vedere due palline con le forze uguali come vedete qui abbiamo una pallina che ha un suo forza iniziale sempre rappresentata da un vettore se io metto play vedo che questa forza si trasferisce in parte sulla seconda pallina e la prima avrà cambiato verso quindi va in lezione opposta e quindi è possibile presentare con i vettori tutti i sistemi dinamici dove agiscono delle forze e i vettori ci danno informazioni sul comportamento dinamico del sistema se vi è piaciuta questa lezione seguitemi sul mio canale youtube e anche sulla mia pagina facebook prof. Antonio Loiacono alla prossima lezione